Quella di oggi potrebbe essere una data storica per la comunità di Monterchi dopo oltre 30 anni di una querelle infinita sul collocamento della Madonna del Parto di Piero della Francesca, oggi un sopralluogo che appunto potrebbe mettere la parola fine. Bisogna partire dal 1992 per capire perché quella di oggi per Monterchi potrebbe essere davvero una giornata di svolta. Dopo una serie di battaglie giudiziarie tra Comune, Diocesi e Ministero della Cultura, oggi il sopralluogo dei funzionari del Ministero per capire se e come finalmente mettere la parola fine alla querelle sul collocamento della Madonna del Parto di Piero della Francesca. Venire qui significa anche dimostrare l'attenzione che il Ministero ha per un dialogo, per valorizzare insieme all'opera anche il territorio che quest'opera contiene. La sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno, successiva ad un pronunciamento del TAR, determina che l'affresco debba tornare nella cappella di Momentana dove è stata fino al 1917 e che si trova adiacente all'attuale cimitero del paese. Noi ovviamente rimaniamo nelle nostre convinzioni che per avere una valorizzazione, una tutela del bene non si debba portare la Madonna del Parto all'interno del cimitero, però questo è un momento importante di confronto, di analisi. Oggi il sopralluogo in entrambi i siti. Il lieto fine mettiamolo in conto, guai non prevedere un lieto fine. I tempi saranno dettati anche dalle risorse che saranno messe a disposizione e dalla progettualità che avrà a che fare con queste risorse.